Continua la serie positiva il badolato di mister Calabrese che colleziona la sesta vittoria consecutiva ai danni di un Real Mileto mai domo. Una bella partita quella andata in scena oggi al comunale Giuseppe Larocca. Primo tempo che ho visto i padroni di casa partire subito forte ed esercitare una buona supremazia territoriale. Tante l'azione dei padroni di casa che hanno provato in puo' acquasione a superare il portiere ospite. Tuttavia passano in vantaggio gli ospiti al trentasesimo con Tadama alla fine di un'azione molto confusa. Rete che permette agli ospiti di chiudere il primo tempo in vantaggio. Torna in campo ben determinato il badolato a riprendere in mano la partita e già al terzo minuto arriva la rete del pareggio grazie al calcio di rigore realizzato da Lentini. Badolato che continua ad esercitare un buon gioco e a rendersi pericoloso in più occasioni. E al trentesimo arriva la rete di De Masi che chiude virtualmente la gara. Nulla può in questa fase il Real Mileto in quanto il badolato riesce a controllare bene la gara. Al quarantaduesimo la terza rete che sigilla una bella vittoria e una bella prestazione dei ragazzi di mister Calabresi. Vetrano mette appunto alle spalle del portiere ospite la terza rete che chiude la gara. Quindi una partita molto bella vinta meritatamente dal badolato che allunga la sede positiva e scavalca in classifica proprio il Real Mileto. Grazie a tutti.